bello a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo vlog in questo nuovo video sono ragazzi anche oggi non è che oggi però oggi siamo in un blog e ci saremo anche in tutte tutta la settimana perché purtroppo ho di problemi al computer oggi infatti stavo registrando l'episodio di minecraft per domani e a un certo punto che stavo costruendo ragazzi infatti ho perso anche i file ho costruito ragazzi era un revisione 30 basato sulla decorazione del mondo con quello che avevamo fatto fino ad ora cioè io ho creato la piazza centrale ed i ponti che non avevo ancora costruito che ci collegavano alla casa degli iscritti e al mob spawner però mentre stavo costruendo mi si è bloccato il computer non mi registrava più ho perso i file di registrazione ho smadonnato quanto una persona può smadonnare al massimo dell'indecenza proprio e ho cercato di recuperare i file in tutte le maniere ma non ci riesco infatti mi sono documentato sul computer che cosa che era successo perché non era motivo e non l'ho capito ancora però non mi registra più mi sta morendo cioè o mi è morto totalmente ma o mi sta morendo il computer e ho capito che sta per essere abbandonato quindi ho detto marendo adesso oppure non lo so cosa gli è successo sinceramente io spero ragazzi spero solo che mi arriva il computer il più possibile quello nuovo perché ragazzi non funziona più niente non riesco a giocare niente quello non parte con l'arto non parte qui il mondo si è bloccato pure minecraft non merode sono triste allo stesso tempo ma merode quindi ragazzi ho deciso per non far mancare i video al canale perché non ne ho voglia di far mancare i video al canale perché mi dà fastidio a me ho deciso di portare dei vlog che quelli li posso registrare nel senso non è un problema non riesco a registrare lo schermo voi o no purtroppo e allora e ho deciso porto questi vlog in cui parleremo ragazzi semplicemente e infatti vorrei che in questo video vi prego ragazzi così abbiamo un po più di contenuto negli altri vlog vi prego se mi commentate questo che volete con con delle domande con delle semplicissime domande delle vostre curiosità che avete su di me che cosa volete sapere su di me e con un semplice fuck andrews oppure andrews risponde e altro che appariranno qui sotto la scritta come scriverli con hashtag sempre ragazzi hashtag andrews risponde oppure hashtag e fuck andrews decidete voi quale preferite non è un problema tanto come le ricerco io così in questo video commentate e vedo quante domande sono uscite e quindi ne porterò nel prossimo episodio oppure potrei fare anche 10 cose che non stai su di me direttamente vedo se le domande sono abbastanza e deciderò tra e quelle domande quello che farò alla fine che farò alla fine e ragazzi per far durare un po di più questo video così avete un po più di contenuto che ne sono intanto ripeto su minecraft avevo costruito un piazzale c'è una piazza a cerchio sempre non ve la so di scrivere la voce dovete vedere nel prossimo episodio ma il fatto ragazzi visto che era l'episodio 30 io poi dovevo andare ad aggiungere il cartello mannaggia la mignotta dovevo andare ad aggiungere il cartello e me si è bloccato appena non appena aspetta quando me si è bloccato a stavo costruendo il secondo ponte stavo costruendo il secondo ponte che ormai lo concludo off camera perché è inutile di farci vedere un ponte in metà già costruito quindi ancora dovevo andare a mettere il cartello ci andavo a fine episodio che non vi dico chi è lo vedrete nel trentesimo episodio pure che io già l'ho registrato ma lo chiamerò sempre il trentesimo episodio perché almeno ha più senso ragazzi quindi in questo vlog vi posso parlare oggi stasera sono andato a un compleanno della mia amica semplicemente ho cucinato io ragazzi perché non so se l'avevo detto che faccio l'alberghiero quindi è dalla quinta elementare che cucino quindi me la cavo molto anche bene sinceramente ho fatto una semplice pasta alla vodka e così per cambiare perché semplice non fare la solita carbonara cacio e pepe grigia uova madriciana oppure semplici spaghetti ai vongoli eccetera eccetera ho deciso di di fare questa pasta che mi andava e andava anche a loro quindi ho deciso quello pavete levata dal forno ed pollo fritto eccetera eccetera anzi ditemi se volete un video in cucina ci sta un video in cucina oppure anche un video in cui ballo nel senso vi faccio vedere qualche ballo eccetera se avete qualche curiosità fatemelo sapere guarda mi fa piacere questa cosa che mi organizzo sicuramente sempre poi dopo e così siamo stati comunque siamo stati lì alla festa semplice abbiamo ballato abbiamo chiacchierato abbiamo sentito la musica e basta poi abbiamo messi tutti perché avevamo stanchi tutti se stanno a invecchiare che ha 17 anni se sentono non è vero scherzo e comunque ragazzi per questo video penso sia tutto ricordatevi di commentare con qualche domanda così dai i contenuti dei prossimi vlog saranno un po' più succosi succolenti vi ricordo gli hashtag gli hashtag sono o Andrews risponde o fuck Andrews decidete voi quale volete aspetto le vostre domande spero che le scriviate quindi ragazzi direi che per questo episodio episodio per questo blog può essere tutto se non erro siamo all'undicesimo vlog non mi ricordo mi sembra sia l'undicesimo vlog comunque può essere tutto quindi ragazzi se vi è piaciuto il video commentate condividete se non siete iscritti iscrivetevi mettete da like accedete alla campanellina e ci vediamo in un prossimo vlog in questo caso di questa settimana quindi bella ragazzi ciao 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 ciao